Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza! Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza! Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza! Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza! Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza! Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza! Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza!